15 nuovi medici di base per la provincia di Trieste, 14 in attività già da oggi, l'ultimo dal 23 novembre. Una novità attesa da tempo da tantissimi triestini rimasti senza dottore di riferimento dopo i numerosi pensionamenti dell'anno scorso. Una boccata d'ossigeno comunicata dall'azienda sanitaria Asugi che ha firmato ieri i nuovi contratti. 12 professionisti sono già stati destinati a rioni o più ampie circoscrizioni specifiche della città che evidentemente ne sopportano maggiormente la carenza. È il caso di Marco Boliandi che opererà a Sandor Ligo. Lorenzo Scapin sarà disponibile per la prima circoscrizione al Tipiano Ovest e Marta Borando per la seconda circoscrizione al Tipiano Est. Spostandoci verso il centro, Elena Coronica e Alessandra Parlato apriranno lo studio in Barriera Vecchia, Salvatore Picardi a Roiano. A Guardiella avrà sede l'ambulatorio di Enrico Marchitiello, mentre nella settima circoscrizione che comprende Servola, Chiarbola, Valmaura e Borgo San Sergio opereranno ben cinque medici, Maurizio Del Mestre, Fabio Pascale, Rosella Dotti e poi Chiara Zivic con vincolo per il rione di Santa Maria Maddalena Inferiore e Matteo Picerna a Servola. Nessun vincolo di rione invece per Maida Vidas, Sreten Vucanovic e Donatella Piva. Quest'ultima sarà operativa dal 23 novembre. Ai medici di base destinati all'area triestina nella lista dei nuovi contratti se ne aggiungono altri cinque per l'isontino. Sono stati anche nominati cinque professionisti per gli incarichi di continuità assistenziale.